Salve a tutti, sono il dottor Mario Rampa, vengo da Milano, sono un specialista in chirurgia generale e senologo. A Milano lavoro presso la casa di cura La Madonnina e alla Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sezione provinciale di Milano. Sono qui in Calabria nella vostra regione una volta al mese, alla Mezza e al centro medico G Italia. Volevo sfruttare questi due minuti concessimi per dare un messaggio importante. Dal tumore al seno si può vincere e si deve vincere, ma non bastiamo noi professionisti, servite anche voi, voi siete la chiave per riuscire a vincere questa battaglia, quindi il problema è aiutateci ad aiutarvi, fate i controlli, andate da un senologo, fatele vedere come era la campagna della Lega Italiana per la lotta contro i tumori dell'anno scorso. Mi raccomando è molto importante perché dal tumore al seno si può vincere, si può guarire, ma bisogna che vi aiutate. Grazie.